dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio difendete la stanza ancora 10 secondi restano 5 secondi il nemico non ha trovato il contenitore di biorischio il nemico ha trovato il contenitore di biorischio 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 il nemico si sta impossessando del contenitore intervenite all'istante difesa contenitore di biorischio in pausa pensate al nemico i difensori hanno eliminato tutti i nemici il contenitore di biorischio